Buongiorno a tutte e tutti, oggi appuntamento con l'economia e vorrei cominciare con una buona notizia, cioè parleremo di una buona notizia, purtroppo anticipando anche una pessima notizia. Lo facciamo con il professor Sergio Rossi, docente di macroeconomia e di politica economica all'Università di Friburgo, che abbiamo appunto in linea e che salutiamo. Buongiorno, buongiorno professore. Senta, sulla Quotidiano Liberazione francese è uscito un interessante articolo che riguarda qualcosa di contrastante. Da una parte viene sottolineato il fatto che il signor Tavares, che è il CEO di Stellantis, dove sono confluite le grandi aziende automobilistiche, sia francese sia la Fiat, percepisce un salario di 36 milioni e mezzo di euro all'anno, che equivale praticamente a 100 mila euro al giorno, che è l'equivalente di 500 volte il salario medio di un operaio di Stellantis. Che ne pensa? Pare che non finire mai questa storia dei bonus per i grandi dirigenti. Non mi stupisce questa notizia, il rapporto fra chi guadagna molto, in questo caso all'apice della gerarchia aziendale, chi guadagna troppo poco per vivere, in basso a questa gerarchia, oramai si sta allargando sempre più, non solo nella finanza, ma anche nell'industria o nei servizi, pensiamo anche solo a una clinica privata. Però chiaramente questo è un problema non soltanto di etica economica, ma anche proprio di capacità poi per le imprese di vendere all'insieme della popolazione i loro beni o servizi, perché chiaramente se io non guadagno abbastanza per vivere, avrò il minimo vitale, ma non andrò a spendere in maniera inutile, per cui anche l'economia ne soffrirà. Oltretutto non è che questo tipo di salario, qualora, non ce l'auguriamo in questo caso e nemmeno in altri, qualora le cose andassero male, l'abbiamo visto anche con Credit Suisse, in qualche modo possono essere in parte recuperabili. Sì, questo è un problema di natura giuridica, di natura economica e anche di carattere etico. Se la mia impresa, per la quale io lavoro in quanto direttore generale, dovesse, se non fallire, avere delle perdite, io in quanto direttore generale dovrei essere responsabile di queste perdite o del fallimento, per cui anziché continuare a ricevere dei bonus o degli stipendi estravaganti, dovrei a meno in parte restituire questi bonus o questi stipendi esagerati, perché se l'azienda va male e addirittura fallisce, è anche, ma non soltanto, colpa mia, in quanto ho dato io le scelte strategiche di lungo termine, ho reclutato io i miei collaboratori, per cui ho una parte di responsabilità. Invece lo vediamo nel campo della finanza, ma non solo. Quando una banca fa delle perdite anche molto elevate o addirittura è prossima al fallimento e va salvata, i banchieri che ne erano alla dirigenza continuano a lavorare come prima, magari in altri istituti, e a guadagnare degli stipendi stravaganti senza restituire un franco, un euro, un dollaro, all'azienda per la quale lavoravano prima, che è stata salvata dallo Stato o che è prossima al fallimento. E' un po' difficile da digerire. Comunque c'è una notizia, sempre dalla Francia, sempre riportata da Liberation, che è digeribilissima. E vado a leggerla. Michelin, il grande produttore mondiale di pneumatici, noto anche nel mondo sportivo, eccetera, ha annunciato un salario decente, finalmente, per i suoi 20.000 operai in Francia, 130.000 in tutto il mondo. Allora, in Francia, per essere concreti, i 20.000 dipendenti arriveranno a guadagnare 25.350 euro nelle zone più periferiche dove Michelin produce, e a Parigi 40.000 euro, perché, insomma, nella capitale si sa, la vita costa molto di più. Un bel esempio di approccio sociale ai problemi, cioè dare, finalmente, un salario decente ai propri dipendenti. Sì, un approccio sociale, eticamente corretto, ma anche economicamente saggio, perché se questi dipendenti ricevono uno stipendio maggiore, si sentono anche più coinvolti nell'impresa, daranno ancora il meglio, mentre prima magari facevano il minimo sindacale, sapendo che sono remunerati correttamente, comunque più di prima. Oltretutto, se sono remunerati maggiormente, avranno una maggiore capacità di acquisto, e ne beneficerà forse non tanto Michelin direttamente, ma indirettamente potrebbe anche beneficiarne, perché queste persone spenderanno maggiormente nell'economia locale, quella nazionale, per cui indirettamente Michelin avrà un maggiore indotto, una maggiore cifra d'affari, oltretutto supportando il commercio dettaglio, la ristorazione, le attività culturali e recreative, creando anche una maggiore ricaduta di risorse fiscali per lo Stato, e lo Stato potrà evitare di dover ridurre la spesa pubblica nel campo dell'aiuto sociale, per fare un esempio, visto che ha maggiori entrate fiscali. È a vantaggio di tutta la collettività, senza per questo ledere, chi sta in cima alla gerarchia aziendale di Michelin, che comunque avrà ancora uno stipendio molto elevato, ragguardevole, però senza avere questi eccessi, per esempio di 1 a 500, come nel caso che lei evocava prima. C'è una proporzione ragionevole fra i più alti stipendi e quelli più bassi, che sono stati aumentati notevolmente in Francia, soprattutto adeguandoli anche al costo della vita, a Parigi è più alto che nelle periferie o nelle regioni periferiche della Francia. Questo è corretto e aiuterà l'insieme dell'economia a avere un maggiore sviluppo economico, una migliore dinamica anche per la finanza pubblica, una maggiore coesione sociale, a vantaggio dell'insieme della collettività. Anche perché lo Stato non ha nulla da perdere in termini di entrate fiscali. Se i lavoratori guadagneranno di più, avranno da pagare un po' più di imposte. Quindi anche questo fa parte del virtuosismo di questa decisione. Assolutamente sì, oggi in Francia, ma anche in Svizzera, in Germania e altri paesi cosiddetti avanzati sul piano economico, un numero crescente di imprese esercita una pressione di basso sugli stipendi di chi ha qualifiche inferiori al direttore generale, qualifiche medie, dicendo ma se non volete accettare questo stipendio di basso vi licenziamo perché c'è comunque qualcun altro che vuole occupare il vostro posto. Però così facendo queste aziende mettono sulle spalle della collettività una parte degli oneri che dovrebbero assumersi. Se io ricevo uno stipendio che non mi permette di vivere in questo modo mi rivolgo allo Stato e lo Stato in questo modo vuol dire che sono i contribuenti al fisco che pagano tramite le loro imposte una parte di quello che l'azienda dovrebbe versare lo stipendio alle persone meno qualificate. Mentre così l'esempio di Michelin vuol dire che lo Stato viene alleggerito da questo onere perché Michelin versa gli stipendi corretti alle persone che hanno dei certificati di studio ma non di livello elevato e in questo modo si solleva la finanza pubblica da questo compito e si crea anche una maggiore coesione all'interno dell'impresa perché le persone che sono meno pagate ma che ricevono un aumento di stipendio considerevole si sentono meglio integrate nell'impresa più considerate come persone e non come semplici risorse umane da sfruttare e poi da gettare nella spazzatura quando sono in depressione, in burnout o magari in malattia a causa di questa pressione di basso sugli stipendi che molte imprese continuano a esercitare pensando in questo modo di essere competitive ma la competitività di un'impresa non si misura dal costo di produzione che deve essere schiacciato verso il basso riducendo gli stipendi si misura in base all'innovazione, al progresso tecnico ma anche allo sviluppo sostenibile cui l'impresa partecipa pagando correttamente all'insieme dei propri collaboratori si pensava che dopo il covid con le conseguenze che si sono avute anche con un nuovo atteggiamento dei lavoratori stessi c'è la grande dismissione, cioè molti hanno deciso di tentare di seguire un'altra strada magari anche improprio e questo ha creato e sta creando un grosso problema di disponibilità di mano d'opera, di collaboratori, di esperti eccetera e si pensava che questa situazione fosse a favore in definitiva dei lavoratori che avessero una carta da giocarsi visto che c'è il lavoro ma manca chi lo vuole o può realizzare basta aumentare un po' a quantomeno si pensava che potessero aumentare i salari mi ricordo una copertina credo dell'Economist addirittura diciamo il tempio giornalistico della destra finanziaria che titolava sapete cosa c'è pagateli di più invece? per certe professioni dove è necessaria la presenza fisica pensiamo nel campo della risorazione o magari anche delle cure sanitarie e chiaramente se molte persone danno la dimissione perché non sopportano più la pressione, il ribasso sui stipendi o il carico eccessivo di lavoro pensiamo alle cliniche, gli ospedali chiaramente poi chi vuole assumerli o tenerli in organico dovrà dare loro un aumento di stipendio perché altrimenti queste persone mancano è vero che pensiamo al cantono Ticino se mancano personale sanitario negli ospedali si possono importare per così dire dalla vicina Italia però comunque anche questo crea un problema soprattutto in Italia dove manca il personale sanitario però ci sono molte attività economiche le industrie ma anche nei servizi dove di fronte a questa grande dimissione del personale dicendo non ne possiamo più ce ne andiamo apriamo un'attività per conto proprio così per gestire anche meglio il tempo di lavoro il tempo della vita privata beh molte imprese che cosa hanno fatto? piuttosto che alzare gli stipendi per trattenere questa mano d'opera hanno digitalizzato l'attività hanno robotizzato le loro imprese hanno fatto capo all'intelligenza artificiale dunque hanno sostituito le persone con dei macchinari intelligenti però chiaramente questo è un problema perché se questi macchinari intelligenti lavorano 24 ore al giorno non sono mai in pausa non scioperano non sono mai ammalati né in gravidanza non si pagano oneri sociali eccetera se c'è un vantaggio per l'impresa che digitalizza una parte delle proprie attività però mai nessun robot acquisterà i beni o i servizi che questa impresa produce e dunque questo è un problema di natura macroeconomica perché crea un indotto che diminuisce in fondo si pagano meno stipendi c'è meno potere d'acquisto delle famiglie e questo crea precariato e le persone precarie spenderanno il minimo indispensabile perché non possono vivere meglio di questo e dunque insieme dell'economia c'è minore indotto economico minore risorse fiscali anche più riotosità perché le persone che sono disoccupate comunque alcune di esse magari hanno un atteggiamento aggressivo e tutto questo porta l'economia a soffrire dunque più costi che benefici anche se l'impresa che ha digitalizzato o che ha ridotto gli stipendi o la forza lavoro pensa di trarne un vantaggio magari nel breve e medio termine ciò è il caso ma nel più lungo termine l'impresa rischia di chiudere perché non ha più degli sbocchi come prima e deve comunque cercare di soddisfare gli interessi di chi ha le azioni dell'impresa perché altrimenti queste azioni vengono vendute il prezzo dell'impresa in borsa cala e da qui conseguenze negative per la finanza di mercato di questa impresa lei faceva riferimento anche alla tecnologia quindi al fatto che l'intelligenza artificiale porterà via dei posti di lavoro bisogna vedere se saranno sostituiti oppure no e parlava anche di casse statali che come dire non sempre dispongono dei fondi necessari per la politica sociale per aiutare chi non ce la fa chi è in quella situazione che lei ha descritto e sa di cosa parleremo la prossima volta? lo posso anticipare a lei e lo posso anticipare ai nostri lettori e in questo caso diciamo ai nostri telespettatori parleremo della votazione del 9 giugno votazione fiscale dove si dovrà decidere se dare una mano in più a chi già ha grazie professore per la sua partecipazione e grazie a Libé Liberation che ci ha dato una buona notizia grazie a voi arrivederci